Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video, un saluto a tutti da Max e imprufoliamoci nuovamente nel Grande Fratello VIP dove abbiamo lasciato Antonino Spinalbese nel senso che lui ha lasciato la casa nelle scorse ore. È stata però una decisione abbastanza motivata dalla produzione con un post e ha detto Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla casa del Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Quindi secondo indiscrezioni però il motivo sarebbe un altro. Sui social i suoi fan sono un po' più detrattori. Scrive un utente sulla pagina ufficiale social del Grande Fratello VIP dicendo è da giorni che aveva male all'apparato digerente, dando quindi subito un motivo, una motivazione a questa uscita. E ancora, dolori dovuti al malfunzionamento del suo pancreas, che da anni ormai gli creano problemi. O ancora qualcun altro coraggioso che ha detto siete solamente dei vigliacchi a scrivere cose negative di fronte a problemi di salute. Lì dentro Antonino, occhio eh, che fa le scarpe a tutti. Sono una massa di falsi e moralisti e senza etica. Antonino è uno dei pochi a combattere. Poi se volete prendere per esempio Oriana o qualche altro che gli va appresso, beh, fate pure. Ma dei suoi problemi fisici, ragazzi, Antonino non aveva mai fatto mistero. Ed era vero quel che ha detto un utente. E infatti lui disse ho un problema al pancreas. Ho trovato grazie ai medici una vita sana. Ho il pancreas di un anziano in pratica. Queste malattie molte vengono scaturite da se stessi. Forse era il momento di ricominciare. Con l'alimentazione riesco a vivere normalmente però. Questo aveva dichiarato. Quindi dicendo anche che doveva per forza di cose fare dei sacrifici. Sui problemi fisici diciamo nessun dubbio. Ma secondo Amadeo Venza i motivi dell'addio temporaneo sarebbero riconducibili ad eventi di totale diversa natura. Spiega all'esperto di gossip che la causa sarebbe da ricercarsi anche nella ragione di voler trascorrere il tempo assieme alla sua bambina. Solo che tutto questo fatto non è così secondo Alessandro Rosica, noto come investigatore social, che va a cercare quel pello nell'uovo, no? Infatti ha condiviso una storia cercando di spiegare meglio la situazione, smentendo clamorosamente Venza dicendo Antonino non ha visto la figlia in alcun modo e non può avere contatti con amici e familiari. Ha solo sentito telefonicamente persone vicino a lui. Quindi Antonino rientrerà presto nella casa del grande fratello Vip. E questi signori sono due punti di vista totalmente diversi. La verità? Beh, insomma, la conosceremo molto presto. Per quanto mi riguarda, per ora è tutto, io vi auguro una buona giornata a tutti e noi ci sentiremo al prossimo aggiornamento, sempre qui.